Questa lezione è noiosissima! La mia tartaruga ninja la renderà più divertente! C'è un animale in classe? Hai! Mi hai morso! Passiamo allo show! È stato facile! Mamma! Papà! Tesoro! Di nuovo? Questo tipo di comportamento nel nostro college è a fuori luogo! Oh! Un dollaro! I miei pantaloni! Che imbarazzo! Avete visto? Cringe! Questi scherzi mi fanno sembrare dentro! Kate, sei in grossi guai! E allora? È solo carta! Pulire può essere dolce! Ti ho fregato, Catherine! Ha versato la Coca-Cola nel secchio della donna delle pulizie! Ora tutto il college è appiccicoso! Ho bisogno di un minuto! Il pranzo è pronto! Abbiamo la zuppa del giorno! Io non la mangio! Che problema è? È tutto biologico! Povero Yorick! Ne ha già passate così tante! Kate! Fattene! Devo parlare con i tuoi genitori! Ho un piano! Kate deve cambiare in qualche modo! Quindi vi suggerisco di trasferirvi al college! Che ne pensi, tesoro? Tesoro! Dobbiamo dire di sì! A fare fatto! Mamma! Papà! A che ci fate qui? Buongiorno, raggio di sole! Abbiamo preparato la colazione! Un croissant! Il tuo preferito! Buonissimo! Ecco, pulisci le briciole! Lasciatemi stare! Perché siete qui? Ecco un biglietto del preside! Ci ha chiesto di trasferirci nel tuo college! È un disastro! Kate, hai da fare stasera? Ciao, tesoro! Ho lavato la tua roba! Lascia che la appenda! C'era una corda da qualche parte qui! Oh! Trovata! Tieni qui! Sono miei! Grazie! Non c'è di che, tesoro? Katie, tieni dritto! Ecco qua! Che schifo! Quanto è vecchio questo calzino! Andrà nel prossimo carico! Oh, ciao, amici di Kate! Katie ha sette anni in questa foto! È sempre stata così carina! Una volta ha morso Babbo Natale! Che sta succedendo qui? Oh no! Non l'album di foto! Lasciatemi passare! Fatemi vedere! Kate! Ora sappiamo tutta la verità su di te! Tesoro! Abbiamo mostrato a tutti le tue foto da bambina! Basta così! Questo album deve essere distrutto! Kitty? Non importa! Ho ancora un sacco di foto sul mio telefono! Questo quadro deve essere cambiato! Quello vecchio non si adatta al Feng Shui qui! Come faceva a stare quassù? Va tutto bene! Un chiodo salverà la situazione! Per favore! No! Fantastico! Ragazzi, accendete le torce! Tesoro, sembri carico! Andiamo in infermeria! Oggi è il 13 maggio! Cominciamo! Cosa? 13 maggio? Mi suona familiare! Oh no! È il nostro anniversario di matrimonio! Me ne sono dimenticato! Devo prepararmi! Uno smoking? Bello! Scusa, potresti spostarti? Mi serve questo tavolo! Atmosfera romantica? Check! Tesoro, buon anniversario! Sorpresa! Oh, tesoro! Ti sei ricordato! E hai ingaggiato una band! Grazie! Non c'è speranza! Ehi! Aspettate un attimo! Ma che sta facendo? Questa classe non viene pulita da un po'? Ma siamo a lezione! Ops! Scusi! Se ne vada! Per favore! E porti via il suo aspirapolvere! Bene, Kate! Vieni alla lavagna! Io? Va bene! Ecco qua! Risolvi l'equazione! C'è un sacco di polvere qui dentro! Fatto! Ecco il suo gesso! Kate! Non c'è niente qui! Ti do un brutto voto! Da dove arriva questo fumo? Fuoco! Stiamo per bruciare tutti! Ho fatto i biscotti! Buon appetito! Sono appena usciti dal forno! Grazie! Mamma! Smettila! Solo un biscotto, Kitty! Posso avere la ricetta di questi fantastici biscotti? Certo! La scriva! Due tazze di farina! Ho finito l'inchiostro rosso! Posso aiutarla! Questo cacciape è rosso come la penna! E il voto è pronto! Wow! Grazie! Lezione di arte! Dipingeremo gli idee, Gracie! Oh no! Non questo! Congratulazioni, ragazzi! Avete un nuovo modello! Sono nato per essere un dio! Basta! Niente più arte! Se comincio a comportarmi bene, ai miei genitori non verrà più chiesto di stare qui! Oh! Scusa! No! Ti prego! Non picchiarmi! Ecco i tuoi libri! Tutto qui? Questo non è da te! Kate! Stai bene? Voglio solo aiutarti! Chi può risolvere questo? Kate? Trenta! Corretto! Complimenti! Hai preso un 10 e lode! Sta chiaramente tramando qualcosa! Ha qualcosa sulla schiena? Guarda bene! No! E io? È tutto molto sospetto! Catherine! Porta questi libri nel mio ufficio! Grazie! Ok! Quella era la pianta preferita del preside! Corri! Kate! Cos'è successo? Oh no! Dov'è la mia pianta? Mirabella? Dove sei? Oh no! Mirabella! Chi ti ha fatto cadere? Non ci sarà pietà! Kate! Hai fatto cadere la mia amata pianta! È imperdonabile! Ora dovrai... Signor preside? Siamo stati noi? Dobbiamo parlare del comportamento dei vostri figli! Nonni! Questo è inaccettabile! E ora andiamo tutti al college insieme! Come una grande famiglia felice! Ciao! Grazie! Ciao! 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 Faccio! Con